il mondo che ti do è il mondo in cui la musica unisce tutti i popoli si spero di lasciarti un mondo un po più differenziato è un po meno sporco fare in modo che tutti possano vivere meglio possano i propri diritti se tutti hanno bisogno del diritto di vivere di vivere bene di poter mangiare di poter accedere alle cose che desideriamo alle cose più semplici ma pure a poter realizzare di più come che ne so avere più libertà e poter decidere fare di essere musicista decidere ecco poter usufruire del proprio tempo e e sostenere gli altri ad avere questo tempo e i beni primari innanzitutto speriamo di sì Grazie 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 a tutti